Pubblicato l'avviso dall'8 marzo in poi, le imprese in Sicilia potranno presentare istanze di finanziamento. La dotazione complessiva è di 50 milioni di euro. I dettagli, Giuliana Miciche. E' adesso operativo il Fondo Emergenze Imprese Sicilia, frutto di un accordo tra Regione Siciliana e Banca Europea degli Investimenti. E' gestito dall'ICREA, ovvero Istituto Centrale del Credito Cooperativo, insieme alle 11 banche di credito cooperativo siciliane appartenenti al gruppo. E' già stato pubblicato l'avviso tramite cui, a decorrere dal prossimo 8 marzo, le piccole e medie imprese dell'isola danneggiate dalla crisi provocata dalla pandemia potranno presentare la richiesta di finanziamento. La dotazione finanziaria complessiva ammonta 50 milioni di euro, 25 dei quali provenienti da fondi europei e gli altri 25 da fondi regionali. Ad esaurimento dei 50 milioni, come previsto dall'accordo, si aggiungeranno almeno altri 50 milioni di euro come cofinanziamento a carico dell'ICREA. Gli aiuti consistono in prestiti agevolati di breve, medio e lungo termine per finanziare liquidità e investimenti. La durata massima dei prestiti è di 20 anni per gli investimenti e 15 anni per i prestiti di liquidità, da intendere come capitale circolante. Gli importi richiesti possono variare da un minimo di 500 mila euro ad un massimo di 5 milioni di euro. Su richiesta della Regione i finanziamenti saranno concessi a tasso zero per gli importi sino a 2 milioni e 300 mila euro e per la restante parte sino a 5 milioni a tassi minimi di mercato. Possono richiedere i finanziamenti le piccole e medie imprese siciliane o operative in Sicilia, costituite entro il 31 dicembre 2019, che nel 2020 abbiano subito perdite di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. E il Presidente della Regione, Nello Musumeci, sottolinea È una risorsa per le aziende, uno dei risultati che abbiamo voluto fortemente raggiungere. Nel frattempo adesso sono 3.450 nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 34.911 tamponi processati. Il tasso di positività è al 10%. La Regione è al secondo posto in Italia per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 232.282 con un incremento di 2.603 casi. I guariti sono 2.344. Le vittime sono state 36 per un totale dei decessi a 9.534. Negli ospedali ricoverati ordinari sono 1.131, 20 in più. E quelli in terapia intensiva sono 65, 7 in meno. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 1.295, Catania 713, Messina 786, Siracusa 411, Trapani 497, Ragusa 379, Caltanissetta 215, Agrigento 456 ed Enna 231.